Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa, eccomi con David Mancori Mancori, 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 Mancori su quest'anno Grande, su quest'anno, allora siamo qui al... Siamo qui al microsalon organizzato dalla E.C. nella sua settima edizione, sempre un grande sorpreso Ecco, veramente bella, abbiamo ancora un giorno a disposizione per chi vuole venirlo a visitare L'entrata, ricordiamo, Cinecittà Ed è gratulità Ecco, ingresso libero, ci sono delle cose spettacolari, vogliamo dare qualche accenno? Le ultime tecnologie riguardanti cinema e televisio Tutte le tecnologie per riprese, l'invenzione, tanto, tanto... Ecco, perciò, Teatro Dieci, Cinecittà, noi vi salutiamo Ciao! Ciao, ciao!